Io ho fatto inchiesta per due anni girando l'Europa e conosco tanti retroscena e alla fine ti posso dire che in alcuni paesi il sistema è marcio, dove alla fine è una terra dei fuochi tutta, è una terra dei fuochi, a livello di quello che mangi, a livello di plastiche, residui di oli, carburanti dentro all'olio, d'oliva, ok? C'è di tutto, perché chi deve controllare non controlla, in tasca alla fine è tutto un tumore, è tutto un carcinoma, tutti si ammalano perché non c'è, la plastica è dappertutto ormai, la plastica metaforicamente parlando. E allora cosa succede? Chi vincerà in tutto questo se la mafia in realtà è un modo di pensare? Devi lottare contro il modo di pensare, quindi cambiare il mindset delle persone, da lì che è nata la divulgazione del film, del libro, cambiare il modo di pensare, come dovrebbe essere, eliminare il conflitto di interessi.